salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video vi chiedo immensamente scusa fin dall'inizio per i messaggi che arriveranno però purtroppo essendo iscritta a diversi canali mi arrivano dei messaggi di notifica quindi non so come toglierli per cui scusatemi poi vi voglio dire che se vi piacerà questo nuovo video oh mamma mia questi messaggi se vi piace questo video vi chiedo di mettere un bel like un bel pollicione su e di iscrivervi alle notifiche al mio canale se vi iscrivete alle notifiche non vi perderete più nemmeno un bel videozzo fatto da moi questo è il catalogo sorgenta aldea dei bijoux 2021 andiamo vamos chichi eccoci qua bellissimi gioielli con sottofondo di cani o lei se volete poi più ulteriori informazioni magari vedere meglio prezzi perché io non posso purtroppo al carlo più di tanto altrimenti mi salta chiedete alla vostra consulente personale di zona sorgenta andiamo avanti guardate che belle pietrine belle risplendenti mi dispiace se sentite anche come sottofondo le chiacchierate ma d'altra parte questo è un video improvvisato quindi ciappatelo e portatelo a casa quindi siete liberi anche di mettere anche un dislike mi offendo perché vi capisco questo è un catalogo a sé di 34 pagine e riguarda i gioielli gli altri cataloghi quello generico con creme trucchi eccetera eccetera prodotti per la casa eccetera e poi i profumi da se ho fatti tutti in separata sede quindi se volete potete vederli sempre sul mio canale e se volete ancora metteteci like grazie che vi fa sempre piacere ricevere un bel like ecco e magari vi ripeto se seguite il mio canale mi fa ancora al menso piacere di più anche perché io sbario questi lo faccio per un'amica più che altro però se no io ci metto canzoni di cartone animati canzoni così oppure ogni genere di cose è un mix di un canale mix diciamo io intanto vi continuo a far vedere questi fantastici gioiellini queste sono delle belle sembrastelline guardate che carine bracciali da donna con i ciondolini i pendenti vi ripeto purtroppo vi chiedo scusa ma non posso allargare più di tanto onde evitare che mi salti però se lo chiedete a una vostra consulente sicuramente vi porta al catalogo e ve lo fa notare a meno che abbia anche addirittura dei prodotti così chi vede tocca con mano fa più impressione un'impressione migliore vi richiedo ancora immensamente scusa per questi messaggi di notifica di telegram però sono questi sono bracciali unisex quindi donne uomo ma sono iscritta vari canali anche su telegram e quindi faccio parte di diversi gruppi poi faccio dei canali faccio parte anche dei canali attraverso cui guadagno buoni amazon anzi se volete avere informazioni me lo chiedete e così poi vi passo il link sotto il vostro commento mi fa piacere anche perché sono bot simpatici perché c'è da fare delle azioni su instagram e poi niente praticamente vieni pagato e viene impagato anche dall'azione degli amici che inviti quindi più miti e più guadagni questo non c'entra nulla con i bijus urgente scusatemi però una breve parentesi ancora bracciali unisex collane da donna perché vanno ancora di modo alle collane molto lunghe altra collana da donna vedete cosa fa ogni tanto salta perché in pdf con le perline cristal verde acqua cristal verde date belline ogni tanto lo faccio di orecchini siamo quasi in fondo quindi vi ripeto se vi piace mi raccomando mettete il pollicione in su e mi fa piacere anche se vi iscrivete al canale perché più siamo e meglio stiamo guardate che il packaging che abbiamo è carino anche questa scatolina ok vi saluto con questo punto ho finito se vi è piaciuto mettete like buona giornata a tutti buona domenica ciao ciao